Aiuti economici in arrivo nei comuni attraverso il decreto rilancio del 19 maggio scorso, a seguito esenzione di alcune imposte legate al settore turistico e alla tassa di occupazione del suolo pubblico, vista l'esigenza di concedere maggiori spazi agli esercizi e attività commerciali di ristorazione e non solo, viste le normative di distanziamento sociale imposte. L'esenzione di tali imposte ha colpito prevalentemente i comuni a cui il Governo concede un fondo di ristoro per il mancato introito. Poco più di 100.000 euro in arrivo per i 18 comuni del Vallo di Diano e parte del Tanagro. I fondi per il ristoro destinati ai comuni vanno a sostituire le mancate entrate derivanti dall'esenzione del pagamento del limo, prevista per gli operatori del settore turistico, ossia per le attività quali agriturismo, rifugi, affittacamere, B&B, residence e similari. In base alla presenza sul territorio di tali attività, dal Governo sono quindi arrivati i fondi ai comuni per compensare il mancato incasso dell'imposta EIMU non percepite. 69.226 euro in totale in arrivo per i comuni del Vallo di Diano, con la somma più alta che arriverà nelle casse del comune di Atena-Lucana, a cui sono destinati 12.454 euro. Al comune più popoloso del Vallo di Diano, ossia Sala Consilina, arriveranno 11.851 euro, mentre a Teggiano 10.727 euro. Padula e Polla riceveranno ciascuno somme superiori agli 8.000 euro, mentre per i comuni di Montesano, Sanza e San Pietro Altanagro, in arrivo a circa 3.000 euro o poco più. 2.695 euro in arrivo a Sassano e 1.664 euro a Sant'Arsenio. Per tutti gli altri comuni, ossia Auletta, Bonabitacolo, Caggiano, Monte San Giacomo, Pertosa, San Rufo, il mancato introito dell'IMU derivante dalle attività operanti nel settore turistico sarà compensato con cifre al di sotto dei 1.000 euro e comunque di poche centinaia di euro. Zero fondi in arrivo per Salvitelle che potrà contare però sui 2.231 euro in arrivo al ristoro del mancato introito derivante dall'esenzione della TOSAP, ossia la tassa di occupazione del suolo pubblico. In questo caso, i comuni che percepiranno un ristoro maggiore sono i comuni di Polla che potrà contare sull'arrivo di 7.202 euro, seguito da Caggiano con 4.280 euro e sala Consilina che percepirà 3.750 euro. 2.874 euro in arrivo per Montesano, 1.964 euro e quanto destinato per il comune di Teggiano. Ad Auletta sono stati stanziati 1.723 euro e a Sant'Arsenio 1.599 euro. Infine si mantiene sopra i 1.000 euro il comune di Padula che si vedrà consegnare dal governo la cifra di 1.488 euro. Per tutti gli altri comuni in arrivo poche centinaia di euro che avranno la finalità di sopperire al mancato incasso della TOSAP in questo periodo di emergenza post-covid. In arrivo fondi anche negli Alburni. A percepire il fondo di ristoro per il mancato incasso dell'Imu sulle attività turistiche più alto è Corleto Monforte a cui arriveranno 2.619 euro, mentre Sant'Angelo Le Fratte è il comune che percepirà di più come fondo di ristoro per il mancato incasso della TOSAP con l'arrivo delle casse comunali di 548 euro.